Da ormai mezzo secolo, la burbera e risoluta signora Casarotto gestiva il rifugio tre dita. Rimasta vedova, mandava avanti da sola l'alberghetto di montagna, nel cuore delle piccole dolomiti vicentine. Per il suo compleanno pretendeva che i cinque figli, tutti rigorosamente celibi, salissero al rifugio ognuno con una torta alla crema. Attenti a non far spegnere le candeline, la mamma sarebbe andata su tutte le furie. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS